Gentili telespettatori, buona giornata. Vittorio Feltri fa un appello al ministro Lamorgese. Agisca d'anticipo e si dimetta con dignità. Gentile ministro dell'interno Lamorgese, leggo sui giornali che molti politici intendono chiedere le sue dimissioni. Attenzione, Matteo Salvini ha cambiato magicamente posizione su questo. Perché? Giorgia Meloni ha intenzione di chiedere il voto di sfiducia in Parlamento, ma deve aspettare che riapra il Parlamento. Ancora è chiuso, non può chiedere il voto di sfiducia. Chiedendo il voto di sfiducia si chiede ai parlamentari di votare per mandare via e far dare le dimissioni alla Lamorgese, dal governo. Se lo propone Giorgia Meloni, gli unici a votarla saranno Fratelli d'Italia, Sinistra Italiana e poi a questo punto dovrebbe votarlo anche la Lega, visto che il suo segretario continua a dire mattina, pomeriggio e sera che deve andare via, deve essere rimossa. Però Salvini ha cambiato improvvisamente idea. Rimossa? No, 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 deve solo imparare a fare il ministro. Ovviamente ha capito che la questione di sfiducia sulla Lamorgese porterebbe un bel problema alla Lega. Un ennesimo, come dire, tu dici di mandarla via e adesso non voti la sfiducia? E allora ha cambiato immediatamente registro. Ma Vittorio Feltri dice, gentile ministro dell'Interno, leggo sui giornali che molti politici intendono chiedere le sue dimissioni. Lo faranno senz'altro con motivi fondati e non credo che le facciano piacere. I motivi sono assolutamente fondati, su questo non c'è dubbio. Però perché la Lamorgese dà adito a questo? Perché lei è un tappabuchi, è stata messa dal governo Conte II, da Conte, proprio per dire tu stai lì, qualsiasi cosa riferisci a me che io decido. Stessa cosa sta facendo Draghi. La Lamorgese vede i problemi e manda il dossier al presidente del Consiglio. Poi il presidente del Consiglio non fa nulla e la colpa non è della Lamorgese, è di Draghi e di Conte. Più che chiederne conto a Lamorgese, visto che la Lamorgese chiaramente ha detto io passo i miei dossier a Draghi, è lui che deve decidere. L'ha detto. Pertanto bisognerebbe chiedere a Draghi, Draghi perché non fai niente su questi temi? È a lui che bisognerebbe chiedere. Naturalmente a Draghi nessuno gli chiede niente perché è il capo e pertanto si dice a Lamorgese per colpire Draghi, per far capire a Draghi che non sta facendo il suo lavoro. Questa è la realtà. Veltri dice tutti sono consapevoli che lei è stato un ottimo prefetto ma è pure noto che da quando occupa il vertice del Viminale non è riuscito a svolgere il suo ruolo in modo soddisfacente. Probabilmente si rende conto delle topiche che dipendono dal suo operato. Parlano i risultati ottenuti negli ultimi tempi di cui non si può tacere. L'immigrazione che dovrebbe essere sotto il suo controllo è letteralmente fuori controllo. Gli sbarchi sulle nostre coste aumentano di giorno in giorno senza che il suo dicastero intervenga per limitare o almeno disciplinare. Migliaia di stranieri arrivano quotidianamente in Italia e poi vengono dispersi senza controlli adeguati sul territorio nazionale. Ma rendiamoci conto che uno Stato che non è in grado di controllare le metropolitane, i treni, gli autobus e dice no il Green Pass non serve solo se ti siede nel ristorante perché non è in grado di controllare una metropolitana come fa a controllare i confini italiani. Uno Stato che non è in grado di controllare un raduno di gente col camper su un terreno di proprietà di un'altra persona non è in grado di intervenire come fa a controllare i confini. Dai non scherziamo, è impossibile. Quindi il governo che sia Draghi o la Lamorgese non hanno nessuna soluzione per controllare la migrazione clandestina, non ce l'hanno. L'Europa giustamente non ne vuole sapere, dice fa affari vostri, cosa vuole? Redistribuzione automatica, ma state scherzando. L'Europa non ne vuole sentire. Le soluzioni ci sono ma non le vogliono intraprendere perché c'è Enrico Letta alla sinistra che hanno cancellato i decretti di sicurezza di Salvini. Voluti da Salvini, Conte e Di Maio, attenzione, voluti anche dai 5 Stelle, ma loro i 5 Stelle adesso sono impegnati a mantenere la poltrone e lo stipendio, non gliene frega niente dei decretti di sicurezza. I cittadini, dice Feltri, osservano impotenti lo scempio che si crea. Mi rendo conto che non sia agevole organizzare un'accoglienza decente per uomini e donne in cerca di una esistenza civile nel nostro paese, già alle prese con mille problemi, non ultimi quelli provocati dal virus. La situazione richiede interventi risolutivi non facili da realizzare. Ma bisogna riconoscere che Salvini, quando occupava il suo posto attuale, agiva con maggiore determinazione e sapeva arginare l'invasione. Certamente. Ora invece, con la sua gestione, cara Ministra, le cose stanno precipitando. Se a questo aggiungiamo la sua inerzia di fronte ai parti, quelle cose lì, dice l'indifferenza delle strutture dello Stato, c'è solo da arrabbiarsi, insomma. Cara Lamorgese, lei come giustifica che l'Italia sia diventata preda di uomini e donne di varie nazionalità, senza che le nostre autorità, lei in testa, muovano un dito per ripristinare un minimo di ordine e disciplina? Va da sé che la fiducia nel Viminale sia andata a farsi friggere. Ovvio che vari partiti chiedano di sostituire lei con una persona più avveduta nella tutela degli interessi della nazione. Se mi consente, le consiglierei di dimettersi e di rientrare in prefettura, lasciando la poltrona romana a chi offre maggiori garanzie di tenuta. Non si faccia sfiduciare in Parlamento, agisca d'anticipo e si dimetta con dignità, da una posizione alla quale non addetta, forse per bontà d'animo. Siamo in emergenza, non ci basta avere una ministra garbata, serve qualcuno di polso e non solo di lingua. Feltri dice che lei lo fa per bontà d'animo. No, lo fa perché gli è stato imposto dai due presidenti del Consiglio. Tu riferisci a noi che noi decidiamo. Guardate che la Lamorgese non ha nessun potere di prendere decisioni e neanche nel Viterbese, secondo me, ha passato tutto a Draghi e Draghi non ha deciso. Forse non ha valutato in maniera corretta, ha sottovalutato, non sa da che parte girarsi sull'immigrazione. Vi ricordate che ha spedito subito la Lamorgese in Libia e in Europa. Vai a parlare in Europa, vai a parlare in Libia, prendi accordi e tornata, ovviamente non è cambiato niente. Quindi Draghi non sa cosa fare perché sa perfettamente che l'unica soluzione erano quelle di Salvini al Viminale e accordi monetari e blocco navale, come dice Giorgia Meloni, con i paesi costieri. Ma non lo vuole fare. Non lo vuole fare. è una roba troppo ingarbugliata per lui e il suo governo. Non lo vuole fare. Perché poi passerebbe per un cattivone di centrodestra. Avete capito? E lui vuole anche andare al Quirinale prima o poi. E insomma, Mattarella rimarrà lì, lui starà come presidente del Consiglio, poi quando finisce di fare quello che deve fare, Mattarella darà le dimissioni e lui verrà eletto. Questo è quello che vuole fare. Non vuole avere problemi con l'immigrazione. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.